esistono due tipi di verità la prima è quella la cui negazione è l'esatto contrario e poi ne esiste un'altra in cui il contrario è un'altra verità e nel caso della nuova ferrari 250 della nuova hypercar l'altra verità è che questa vettura sarà sicuramente un oggetto strafigo da un punto di vista meccanico nonostante 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 monti un motore v6 al posto del v12 bestemmia come elemento di spinta generoso e poi vi dico anche quanto generoso nel contesto di una meccanica che deriva strettamente da quella della 499 p due volte vincitrice aleman non è la prima volta che ferrari si lancia in progetti diversi dai motori v12 per le hypercar e non credo nemmeno sia stato un caso che recentemente hanno presentato la sp3 appunto con il motore v12 mettendola più o meno a livello delle hypercar per quanto riguarda i prezzi per quanto riguarda la tipologia di vettura facendola però rientrare all'interno di quel programma icone in cui sono inserite le sp1 le sp2 e appunto le sp3 quindi il contentino al cliente delle hypercar sono pochi al mondo sono quelli che comprano tutto per avere accesso a quel genere di macchine lì tu devi comprare tutto ma non è che ne salti un punto quindi questi 500 che comprare ma hanno comprato più evidentemente ce ne sono un po più di 500 che comprano tutto ma devi anche partecipare ai loro eventi e possibilmente se fai anche i corsi clienti sei ben accetto quindi diciamo che la lista poi va a scemare man mano che queste caratteristiche tendono a sparire però appunto hanno dato il contentino a quelle del v12 con questa vettura meravigliosa che la sp3 io la adoro è stupenda è una delle più belle ferrari che sia mai stata realizzata è talmente bella che avrebbe meritato una meccanica dedicata non solo per quanto riguarda diciamo lo sviluppo di motore che è quello della competizione con 10 cavalli più per via della linea scarico ma anche diciamo il telaio della la ferrari che è bellissimo per carità tutto perfetto però forse avrebbe meritato un telaio dedicato anche se non è che stiamo parlando del telaio della panda 30 stiamo parlando di un signor telaio in fibra di carbonio con una serie di robe solo 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 se gli avessero messo il monodado con la macchina lì sarebbe stata perfetta io avessi la sp3 prenderei mozzi della della ferrari li metterei ma non è questo il tema il tema è che la prossima hypercar come già vi dicevo non solo non avrà il motore v12 ma avrà il motore v6 appunto di derivazione 499 p e sarà diciamo la massima espressione tecnologica di quello che oggi ferrari ovvero motore v di 120 gradi v6 con doppia turbina ihi contro rottante al centro delle bancate tutto quello che vuoi con tre motori elettrici che sono fondamentalmente uno schema che deriva da quello della sf 90 con sospensione interiori push road quindi sarà la macchina strettamente come vi dicevo derivata dalla 499 dpi da competizione quindi ci saranno dei puntoni di spinta che spingono in sulla sospensione sulla bielletta per andare poi a lavorare su sull' ammortizzatore quindi roba da competizione roba da competizione sarà una vera macchina da competizione con appunto l'ibrido e una parte termica molto importante molto importante ma come hai appena fatto il video dove dice che il v12 è meglio del v6 è certo ma io lo confermo infatti se poter chiaramente quelli che comprano questa hanno già comprato anche la sp3 quindi già non ha avuto il dolcino però esiste modo e modo di fare le cose e soprattutto come vi dicevo prima la ve se la verità è che il v12 è meglio del v6 la seconda verità sta nel fatto che se la guardiamo da un punto di vista ingegneristico senza fare suono dalle casse perché non serve un cazzo se è proprio quello il bello perché quel motore lì essendo fatto in quel modo lì non ha bisogno di aggiungere suono suona meno di un v12 e va bene così perché è fatto così però la seconda verità come vi dicevo appunto che questo v6 è la massima espressione tecnologica di quello che oggi può essere un motore termico e già perché sparerà 300 cavalli litro 300 cavalli litro 300 cavalli litro sono un valore che nel 2004 2004 gli ultimi anni dei v10 di formula 1 che giravano a 18.500 giri circa quasi 19 sparavano 300 cavalli litro erano dei motori aspirati da della competizione duravano mille chilometri fatto tutto un po di banco e un po di pista è buttato 300 cavalli litro appunto a circa 18.500 giri motori aspirati con coppie molto molto contenute probabilmente un motore così fa 300 newton metro 350 a farla grande però innanzitutto il valore della coppia tipo a 12.000 giri se non a 13 forse anche 14 e allo stesso tempo è un motore che è stato pensato per girare altissimo quindi ha un alesaggio molto grande e una corsa molto corta e questo ti permette poi di sviluppare quel valore di coppia lì che è contenuto ma non troppo e soprattutto poi spararlo a delle velocità altissime quindi la potenza che non tieni era di circa 900 cavalli tanto è vero che poi montoglia con la macchina del 2004 a monza faceva gli stessi tempi di quelle di adesso con più di 1000 cavalli e tutto quello che ci va dietro con le vent'anni in più di sviluppo delle delle vetture quindi pensa a quanto forte andavano quegli affari la detto questo però tornando alla vera il concetto dei 300 cavalli litro con il motore v12 aspirato non ci sareste mai potuto arrivare quindi sareste stato limitato nella performance a tirar fuori i soliti 840 850 cavalli da un motore del genere 860 870 metti anche caso nei tiri fuori per culo 900 ma è proprio per culo e soprattutto lo rendi talmente impiccato che ha voglia di mettergli elettrico sotto per compensarlo diventa una roba ingestibile 12 mila giri una roba un po così c'è già qualcuno che lo sta facendo per dire tutte le marra e le come si chiama le aston martin quella roba lì già girano più di 10 mila giri non è quello il fatto si può fare un motore del genere ma sono motori che sono molto impiccati sono molto impiccati e oltre ad avere grossissimi problemi di omologazione perché poi queste vetture comunque le deve omologare sono vetture che devono girare per strada però hanno problemi di affidabilità problemi di ogni genere e diciamo rendono talmente complicato l'ottenimento di un valore di potenza di un valore di potenza che fa in modo quasi semplice con il v6 turbo che non ha senso andare ad investire su una tecnologia v12 solo per realizzare godimento anche se in realtà farei solo v12 farei solo godimento però capisco il senso però capisco anche che in ferrari dicano se proprio proprio ci devo buttare dentro dei soldi per fare in modo di anche creare la vettura del futuro partendo da questa perché poi questa è la punta di diamante di tutta una serie di vetture che poi arrivano dopo per tipo di costruzione telaio per tipo di motore per tipo di ibrido per tipo da roba alla fine ti ritrovi con un ferro che rappresenta un po la base de tutto come è stata la base de tutto per volkswagen la veiron quando l'hanno fatta li hanno sviluppato il dsg hanno sviluppato i motori w hanno sviluppato i freni per la brembo hanno sviluppato tutta la michelin hanno sviluppato un casino da roba il carbonio un casino da roba che poi tramite dall'ara che poi ha consentito uno sviluppo in casa volkswagen notevolissimo di tantissimi altri pezzi proprio partendo da tutti i soldi che ci hanno buttato dentro di ricerca e sviluppo per fare una veiron che poi hanno avvenuto in 400 pezzi non ci hanno mai coperto le spese ma hanno fatto ricerca e sviluppo quella macchina lì era pura ricerca e sviluppo ed è quello il bello della veiron perché era il massimo che il gruppo volkswagen poteva fare in quel periodo chiaramente aiutato da partner come dall'ara però era il massimo che poteva fare il gruppo volkswagen il massimo più di così impossibile da lì poi tutta cascata porsche con la carrera gt ha fatto la stessa roba riciclando roba del formula 1 di un vecchio v10 che avrebbero dovuto usare in formula 1 poi hanno detto no lo mettiamo alle man e poi hanno detto no alla fine ci hanno fatto la carrera gt quindi qui a fianco della verità che il motore v12 è impareggiabile l'altra vera verità è che se vuoi fare un elemento tecnologico oggi lo fai col v6 e soprattutto lo fai andando a replicare uno schema che ti ha permesso di consentire la vittoria due volte le man quindi hai la pezza giustificativa del fatto di fare un hypercar con i motori v6 perché dici cazzo ti do la macchina delle man cosa vuoi di più abbiamo vinto due volte più di così cosa vuoi avere e hai ragione quindi il marketing è a posto da un punto di vista progettuale appunto dovendo lavorare su quel motore v6 lì per le prossime evoluzioni è chiaro che fargli superare alzare l'astricella di un motore che era già notevolmente prestante era chiaro che era una sfida che in ferrari volevano portare avanti perché sto motore l'hanno appena fatto praticamente a pochi anni di vita come progetto disegnato da zero da un foglio bianco era partito è partito con 221 cavalli litro poi si è visto ed è il motore per potenza specifica più potente del mercato poi è arrivata la mercedes con 245 cavalli quante ne ha 240 cavalli del motore del 2000 dell'amg è sempre turbo quattro cilindri però motore un po diverso e adesso appunto si è arrivati a scavallare di nuovo in modo molto importante quel valore lì perché sappiate che la parte termica della prossima ferrari 250 avrà 900 cavalli 300 cavalli litro quindi questo motore che sarà chiaramente abbinato ad una parte elettrica che posso immaginare sviluppata rispetto a quella della sf 90 per la prima volta si trova ad avere a che fare con due motori elettrici davanti più il motore elettrico dietro che ha già visto su 296 però a parte che due motori elettrici davanti li ha già visti sulla macchina delle man però questo è un altro discorso però sul prodotto di serie si ritrova praticamente lo stesso schema elettrico della sf 90 potenziato si dice si dice che questa vettura avvanterà 1200 cavalli però di sicuro quello che sappiamo sicuramente che la parte termica sarà di 900 cavalli che ha un valore impressionante 300 cavalli litro sono tantissimi per farlo non ho idea di come abbiano fatto però solitamente per fare potenza gli devi mettere le turbine b gli devi mettere la possibilità di girare un pochino più alto non so come abbiano fatto con l'88 per 82 a girare più alti di 8500 giri con l'alesaggio 88 e la corsa 82 ci sta anche che abbiano accorciato un po la corsa e allargato l'alesaggio cosa che in realtà ti impone di rivedere completamente il motore è anche vero che rivedere completamente il motore è un elemento necessario per fare un motore che fa 80 cavalli litro in più quindi è proprio un altro motore non è che è quello lì sviluppato è sì la base di partenza la stessa ma è chiaro che a livello di fluidodinamica a livello di turbine a livello di pistoni a livello di tutto di bl a livello di tutto quel motore lì è completamente di scarico è completamente diverso un altro film non è che gli metti la mappa del zio peppe o zio sciolt 196 gdb me fai la mappa accetto ti faccio io 300 cavalli subito no funziona così da zio peppe con quella macchina lì sì c'è qualcuno che la smappa ho visto in giro ma ha voglia di arrivare a 300 cavalli ci fai 200 metri dopo questa qui è roba che fa migliaia di chilometri volendo poiché che poi una ferrari fatta così per strada non la usi nessuno siamo tutti d'accordo ma c'è fai 200 metri con la mappa del zio peppe e capito la fa così dopo fai così però vedi l'iperspazio vedi zio peppe mod davanti scritto zio peppe così però poi esplodi invece lì chiaramente di tener botta e per tener botta serve a fare tutta una serie di interventi quindi 300 cavalli litro sono un valore fotonico e che innanzitutto danno l'idea di quanta tecnologia ci sia nell'universo ferrari per quanto riguarda i termici quindi tutti quelli dicono la macchina elettrica ucciderà tutto eccetera cazzo stanno portando avanti i termici in un modo assurdo 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 300 cavalli litro sono solo del termico che poi deve aggiungerci l'elettrico dicono che abbia 1200 cavalli ma potrebbe anche averne 1100 cambia niente assurdo è un valore assurdo poi vediamo quanto peserà eccetera eccetera mclaren ho visto che dichiara 1399 però sempre furbi da mclaren peso a secco senza gli specchietti senza la batteria senza niente senza i sedili gli tolgono tutto quello che è optional tutto vuota e fanno 1399 ma ha sempre fatto sto gioco inglesi ha sempre fatto il gioco deve pesare 150 kg in meno di quello che pesano davvero parte sulle lotus eccetera che comunque li hai voglia dalle va c'è niente alle va pesano poco davvero ma realtà le macchine comunque pesano sempre un pochino di più non tanto ma un pochino di più rispetto a quello che dichiara che ferrari è perché lì poi devi vedere se è un peso e se è un peso din peso a secco sono mille di cose da 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 vedere in che configurazione a voglia ma gheggi il gioco delle tre carte fatto da napoletani fuori da dalla stazione di termini e niente confronto senza offesa per per i ragazzi napoletani o di qualunque città che fanno quei giochi lì era per dire napoletani perché sono bravissimi sono bravissimi a creare realtà che non esistono io quella città lì la adoro perché se tu vai a vedere il cristo velato capisci che chi ha inventato il cristo velato che chi ha fatto il cristo velato gli dà la paga pazzesca a quelli che fanno il gioco delle tre carte cioè quelli che fanno il gioco delle tre carte che sono dei dilettanti cioè quello che ha fatto il cristo velato che è un'opera impossibile è impossibile da fare solo a napoli ci può essere una nuova realtà del genere quindi io veramente io napoli la adoro quindi mi mando tantissimi baci era non volevo dire non era negativo però era così mi dici non vedo l'ora anzi di tornare a napoli però voglio rivederlo perché ogni volta che vedo il cristo velato ma cazzo è impossibile che era così possibile però l'ha fatto detto questo vi saluto quindi 300 cavalli litro sappiate che che è una roba pazzesca da un lato in lamborghini si sono giocati la carta del 10 mila giri non è detto che non ci arrivi anche questo v6 di ferrari decimila giri però ecco in termini di comunicazione da un lato si sono giocati i regimi di rotazione monster per il nuovo motore vuoto della temerario turbo eccetera che comunque far 10 mila giri con un turbo è già un'impresa dall'altro si stanno giocando i 300 cavalli litro non è detto che anche il lambo non ci arrivi a fare 300 cavalli litro è la tecnologia per farlo e gli uomini per farlo ce l'hanno ma di fatto quello che quella macchina lì della ferrari è in grado di fare qualcosa di veramente assurdo e sono i primi al mondo a diciamo realizzare un prodotto che avrà un valore di potenza così elevato da parte della parte termica quindi tanta roba chapeau e quindi la vera verità la verità è che il v12 è uberulles la vera verità anzi la seconda verità che non è la negazione della prima è che il motore v6 si è fatto bene senza l'amplificazione delle casse è comunque un gran motore però devi farlo bene e soprattutto di metterci la testa perché alla fine quello che fa la differenza è l'uomo sia per il cristo velato sia per i motori della ferrari sono la stessa roba però in due momenti storici diversi dai con questo è tutto non rimane che invitarvi a commentare qui sotto vi auguro sempre l'auto e full gas e sempre ciao